Ti dicevo che lo facciamo per i genitori a casa. Noi gli abbiamo dato soddisfazioni a scuola e gli abbiamo detto che gli diamo a lavoro. Gary? Sì, ci sono, ecco qua. Il cognome è domonclato, giusto? Tu sei quello che ha ispirato Eric, però, ho sbaglio. Scusami Andrea, non ho sentito perché qua c'era il tifo. Il cognome non è un caso, tu sei quello che ha ispirato Eric all'inizio. No, guarda, proprio prima ricordavamo, era qua a fianco a me, gli dicevo ma che cosa mi sono inventato per farti entrare? Perché parlavamo di un altro fratello che abbiamo, che stiamo cercando di convincere, un po' più piccolo. E allora stavamo parlando qua, non so che cosa gli ho detto, però alla fine ha funzionato. E beh, i risultati si vedono e te continui insomma a essere su alti livelli come sempre. E anche per fatturato, rediretta, vince Gary Blamasi, Milano Centro. Gary, eccoci di nuovo, oggi in famiglia avete fatto incetta di premi. No, Andrea ti dicevo che lo facciamo per i genitori a casa, non gli abbiamo dato soddisfazioni a scuola e abbiamo detto gli vediamo al lavoro. Al lavoro, beh insomma mi sembra un po' compromesso, credo che siano contenti. Anche te poi c'è avuto un percorso, te quando hai iniziato, a che età hai iniziato? Anche io ho 20 anni e mezzo. 20 anni, quindi diciamo che è una caratteristica di famiglia, iniziare presto sul lavoro e ottenere ottimi risultati, te ne sei sicuramente l'esempio. L'altro fratello quanti anni ha? L'altro, quale, quel terzo? 16. Già lo state martellando per portarlo a lavorare? Sì, sì. L'aveva sbagliato, era confuso. No, con calma, ogni tanto gliene parliamo, ma niente di che. Bene, 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 a presto, complimenti, bravi.